Davide Boneddu, geologo nuorese. A fine gennaio il sindacato dei geologi professionisti italiani ha rinnovato il Consiglio nazionale. Lei è entrato a farne parte. Quali gli obiettivi dell'organismo e quali quelli del suo mandato? Allora, intanto il primo impegno, l'obiettivo è quello di dare voce e rappresentanza agli iscritti, ma più ampiamente a circa 15.000 geologi in Italia che lavorano sia nell'ambito della pubblica amministrazione e soprattutto ovviamente della libera professione. È un ruolo di responsabilità perché in qualche modo oggi sempre di più il geologo lavora nell'ambito della pianificazione, della gestione e della manutenzione del territorio. Quindi sono tematiche che vengono sentite sempre di più, io credo, dalla cittadinanza, dalla popolazione, come temi importanti e in qualche modo anche come ritorno nelle attività che vengono svolte. Il mio obiettivo è sostanzialmente, tra le varie, ma mi fa piacere, credo utile citare questo, lavorare per un'effettiva semplificazione e sburocratizzazione delle procedure che spesso i liberi professionisti sono chiamati a mettere in campo. Dico questo perché molto spesso il legislatore lavora nell'ambito della semplificazione, raramente in qualche modo coinvolgendo sia a titolo preventivo o consuntivo le associazioni di categoria, quindi come liberi professionisti, trasformando l'effetto dello strumento legislativo in un mero spostamento di carico di lavoro, dall'amministrazione al libero professionista, senza soprattutto, questo secondo me è il vero tema più importante, un effettivo beneficio nei confronti del cittadino, che è l'ultimo fruitore di questo ciclo produttivo. Quindi lavorare per una semplificazione e una effettiva sburocratizzazione. Grazie. 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 Grazie.